Sono ricostruzioni giornalistiche valgono per quel che valgono, anche se la fonte è autorevole perché De Martis è un giornalista serio. Io credo che come cittadino d'Alema a Roma possa votare per chi ritiene più utile, dunque non mi sorprende che possa scegliere l'uno in alternativa all'altro. Poi la vicenda politica nazionale ha il suo corso, non saranno i risultati elettorali di Roma, quelli di Milano e di Torino a cambiarla. Certo, si possono accelerare alcune dinamiche perché se il Partito Democratico dovesse incassare dei risultati negativi nelle grandi città, verrebbe messa in discussione non soltanto la credibilità dei candidati, che è pur sempre il punto dal quale si parte, e dei loro progetti politici per i loro territori, ma anche una visione complessiva della politica nazionale, perché è evidente che molti cittadini votano, guardando certo al candidato sindaco, quel che propone, ma anche al contesto nel quale quella proposta è collocata. Ma lei non lo troverebbe strano che D'Alema facesse addirittura, insomma consigliasse anche di votare per Raggi? Ma guardi che D'Alema abbia un'idea della politica e una linea politica diversa, ben diversa da quella di Renzi è del tutto evidente, dunque la sua battaglia politica la farà, l'ha fatta, continuerà a farla, non credo che voglia uscire di scena, non mi pare, anzi ho la sensazione esattamente opposta, cioè che D'Alema abbia voglia di ritornare un po' più dentro le vicende politiche italiane, le ha guardate da lontano nel corso di questi mesi, vedremo come farà. Poi le elezioni amministrative sono un'occasione, ma non sono certo la cartina di tornasole e nemmeno la chiave di volta di scenari politici molto complessi come sono quelli nazionali. Io credo che vorrà molto di più...